Al tavolo finale del WPT di Venezia, avanti a tutti c'è un italiano, anzi è quasi un padrone di casa, visto che lui vive a Treviso e qui giochiamo a Venezia. C'è Marcello Montagnier, raccontaci come è nata questa chip leading, magari partendo anche dall'ultima mano che ti ha visto eliminare Matthew Salzman. Sì, l'ultima mano praticamente volevo risare con jack e 10 a quadri, per sbaglio collato, colla il piccolo buio e cecca il grande buio, flop, mi trovo con un draw di colore con jack e 10 a quadri, due quadri a terra e con una donna a fiori. Betto 50.000, colla il piccolo buio e passa il grande buio, 9 di fiori al turn, dunque mega draw di quadri e scala bilaterale, cecco punta 110.000 small blind, io pusso resto, chiama il small blind e capa river e chiudo scala. A proposito degli avversari che troverai domani, cosa ci puoi dire? Beh, è un field di avversari mica poco indifferenti, abbiamo dei avversari abbastanza bravi, anzi direi tanto bravi e va, vediamo, speriamo nel meglio che vada bene. Un'ultima domanda su chi è Marcello Montagnier nel mondo del poker, da quanto giochi e che cosa fai nella vita? Beh, io sono 4 anni che gioco a poker, ma non da professionista, ma bensì così tanto per giocare con gli amici oppure qualche tornetto piccolino, ho fatto qualche risultato, ho fatto la nota del poker secondo posto con Lepore, avevo l'ITM e niente, siamo qua e speriamo nel bene domani. Grazie a tutti!